Allora Ergon è una società nata nel 2005, si è sempre preoccupata di data center e l'evoluzione naturale del data center è nel cloud. Conosciamo Aruba fin da quando ha cominciato a fornire servizi cloud e siamo diventati velocemente partner per fornire ai nostri clienti quei servizi cloud che ci venivano richiesti. Aruba ha per tutta una serie di motivi, uno anche per la prossimità perché è un data center vicino, perché nel tempo abbiamo anche stabilito relazioni personali che ci sono piaciute, con le quali collaboriamo bene e che ci danno anche valore nei confronti dei nostri clienti. Abbiamo visto diversi data center e devo dire i data center di Aruba hanno sviluppato tecnologia e danno la percezione che il dato quando va a dormire la notte è sicuro. Il progetto è nato circa cinque anni fa nel suo stato embrionale, il cliente aveva un'esigenza di dover o rifare completamente il proprio data center oppure trovare una soluzione alternativa che fornisce delle garanzie di alta affidabilità e disponibilità. Noi venendo da un'esperienza di Aruba già precedente, conoscendo il metodo di lavoro di Aruba abbiamo pensato che il cloud come soluzione fosse la più idonea. Abbiamo fatto uno studio di fattibilità, ci siamo consultati con il system architect di Aruba e abbiamo messo giù un piano di lavoro che abbiamo proposto al cliente. Abbiamo fatto un'analisi dei costi benefici e la bilancia pendeva assolutamente a favore del cloud, quindi in maniera diciamo professionale, devo dire anche a Setti, abbiamo valutato che il cloud fosse la soluzione migliore. Dopodiché il passo successivo è stato presentare a Aruba in quanto infrastruttura, IT manager e al direttore degli alberghi. Abbiamo fatto una visita nei data center di Aruba e il cliente è rimasto piacevolmente colpito sia dalla professionalità che dall'infrastruttura delle nuove tecnologie messe in atto. Noi abbiamo avuto la necessità di mettere in sicurezza e in alta affidabilità i nostri sistemi IT. Il nostro partner era Ergon. Abbiamo chiesto di farci uno studio e di proporci quale fosse il sistema migliore per raggiungere l'obiettivo e anche per avere la possibilità di implementare le nostre strutture senza poi dover ripensare la nostra infrastruttura IT. Siamo una catena alberghiera, sono sette alberghi, cinque sono a Firenze, uno a Roma e uno a Venezia. Noi facciamo ospitalità. Il nostro obiettivo fondamentalmente è prenderci cura del cliente, ma la nostra infrastruttura ci serve anche per la gestione del cliente, per fare il check-in, il check-out e per incassare i pagamenti. Quindi abbiamo bisogno di affidabilità, di poter gestire il cliente che spesso sta un giorno solo e anche di fornire connettività ad alta prestazione. Ergon ci fa da partner ormai da sei anni ed è stato il partner che ci ha permesso di fare la scelta più oculata per andare poi in Aruba e in cloud con zero disservizi. Il vantaggio è che ho allontanato dall'azienda i problemi della sicurezza, non me ne preoccupo più. Il nostro servizio è gestito in cloud che chiaramente mi dà tutte le garanzie di affidabilità e di continuità del servizio e in più posso scalare, posso aggiungere, posso crescere. L'anno prossimo apriamo un altro albergo a Roma, cresceremo di un'altra struttura. Non avremo bisogno di nient'altro che aggiungere un server o quello che ci serve senza avere nessun disservizio sull'intera infrastruttura degli alberchi. I data center per come li abbiamo visti fino ad oggi non vanno più bene, devono subire una trasformazione, c'è un cambio di paradigma in atto. Passare al cloud non è un percorso facile, è un percorso, un'opportunità, però va fatto con competenza e noi crediamo che le competenze siano un fattore vincente verso i nostri clienti. Il system integrator così come l'abbiamo visto fino adesso era un system integrator capace di integrare i sistemi all'interno dei data center delle aziende. Adesso c'è bisogno di competenze per prendere quelle risorse e quei valori e portarli in cloud. Per far questo noi abbiamo messo in piedi una realtà che fa solo questo di mestiere, che si chiama Nebula, che ha il compito e il dovere nei confronti dei nostri clienti di accompagnarli, qualora loro lo richiedono, verso il mondo del cloud credendo e avendo la certezza di avere competenze per poterlo fare e soprattutto la competenza e la credibilità di poter essere interlocutori veri per poter portare quelle aziende dal mondo on-premise al mondo cloud.